Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui in un ultimo video In questo video andremo a vedere le varie giocate di Colibale del 2018 Come vi ricordate, abbiamo portato sul canale già due video di giocatori del Napoli Cioè Amphic e Insigne Spero che questo format vi piaccia Dato che l'ho già fatto comunque Sono andati molto bene E niente, che dire Buona visione 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 Grazie a tutti